Il comune di Premariaco ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo il lavoro ininterrotto per recuperare i corpi di Christian Molnar, Korn Mos e Bianca Doros. I tre giovani ragazzi inghiottì le acque del fiume Natisone in quel tragico e maledetto 31 maggio 2024 tra la Diga e il Ponte Romano. Una scelta dovuta e condivisa da tutta la comunità premariacchese, come ci conferma il sindaco Michele De Sabata. L'impegno c'è sempre stato, io arrivo anche da una tradizione dove i pompieri sono intoccabili perché sono davvero gli eroi non solo di noi bambini ma anche degli adulti perché poi intervengono sempre loro alla fine di ogni disgrazia purtroppo. Quindi già gli si vuole bene a loro ma vederli in diretta e dietro le quinte questi ragazzi la delusione di non trovare le persone. Un lavoro capillare e costante è quello dei Vigili del Fuoco, sette giorni su sette, 24 ore su 24. La forza, la volontà per uno scopo unico, la maggior parte delle volte dall'esito positivo purtroppo non per il caso della tragedia di premariaco. Assolutamente, noi ringraziamo davvero di cuore il sindaco e tutta l'amministrazione comunale perché è il riconoscimento del sudore della fatica e della benegazione di tanti uomini e donne che qui in Friuli hanno dato davvero tantissimo per la ricerca delle persone che fino all'ultimo noi speravamo di trovare in vita. E purtroppo non ci va sempre bene, la vita è un po' così, dipende da tante circostanze dal contorno, dai tempi, insomma dalla situazione ma posso assicurarvi che ogni pompiere ha dato il massimo, davvero il massimo quindi al di là anche della propria resistenza per portare a casa il risultato. Questa volta non è andata come è voluta però abbiamo portato a casa i corpi dei ragazzi e almeno le loro famiglie che è necessario farlo.